Bentornati su Facciamo Cinema, dopo il grande successo dell'ultimo video di Tarantino, ecco a voi la top 10 dei film di Tarantino. Per farla ho dovuto ovviamente dividere Kill Bill in due film diversi, anche se poi è un film unico, però cominciamo. Io questo video lo volevo fare, anche se l'altro video non avrebbe avuto successo. Comunque, andiamo. Postazione 10. Grindhouse. Si comincia con la storia di Jungle Julia, Arlen e Shanna, tre ragazze che capitano in questo locale dove si trova Stuntman Mike, che guida una Chevrolet e praticamente lui è un misogeno serial killer che quindi ucciderà poi le tre ragazze e a metà il film cambierà completamente storia. Seguiremo quindi Abernati, Lee e Zoe, che con un piano sequenza di otto minuti ci verranno presentate veramente alla perfezione. E dovranno affrontare questo Stuntman Mike, che nel frattempo, dalla prima parte della storia, ha cambiato macchina, guida una Dodge Charger. E l'ho messo al decimo posto perché dire che è brutto non si può, però non è nemmeno il miglior film di Tarantino. Postazione 9. C'era una volta ad Hollywood. È un film che in molti non hanno capito, si seguono tre storie, quella di Rick Dalton, Cliff Booth e Sharon Tate. È un film ricco di citazioni, Tarantino è un citazionista. Poi Di Caprio è fenomenale, soprattutto anche qui abbiamo un piano sequenza molto lungo dove si vede Di Caprio che nel film è il protagonista di una serie tv, Bounty Love, dove sbaglia continuamente battuta e Tarantino comunque lo fa continuare ad andare avanti, o meglio il regista, lo induce a continuare nonostante gli sbagli. Devo dire che Tarantino ha raggiunto una certa maturità da un film preciso in poi che dopo dirò e poi si è evoluta fino alla creazione di questo film che ha praticamente ci ha messo cinque anni in tutto dalla scrittura alla sua realizzazione. Con le scene, con le riprese, è partito dalla fine, dall'ultima scena, anzi proprio con la scrittura è partita dalla fine e poi dopo a ritroso ha creato tutta la storia. Postazione 8. Kill Bill Vol. 2 Un altro film meraviglioso di Tarantino, Kill Bill Vol. 2, che è uscito in Italia, anzi nel mondo, del 2004 dopo essere stato ingiustamente diviso in due parti, qui vediamo lo scontro di Beatrix finale con Bill, che è un po' sottotono rispetto alla prima parte che troveremo più avanti nella classifica e col Serpente Montano della California che ci sta veramente bene, soprattutto dopo aver visto gli insegnamenti del maestro di Kung Fu. Però, come ho già detto, è un po' sottotono rispetto alla prima parte, anche se è un film unico, non smetterò mai di dirlo, però questo film ha una particolarità, diviso in due parti, che spiegherò dopo, andiamo avanti. Postazione 7. Django Unchained. Al settimo posto, Django, ed è questo il film che dicevo dove Tarantino ha raggiunto una certa maturità, perché dall'ultimo film, quello precedente, a questo, Bastardic Senza Gloria, c'è, si vede che qualcosa è cambiato, soprattutto guardandoli tutti di fila. Premio Oscar a Waltz, che interpreta in questo film il Dottor Schulz, DiCaprio, uno splendido personaggio, Candy, che è diventato anche un meme, e Jackson, che interpreta Steven, ovvero lo schiavo più fedele di Candy, di DiCaprio. Una bella storia di salvataggio, in fondo, quello di Brumilda. Qui, come ho detto, Tarantino raggiunge la sua maturità, e penso che l'Oscar che ha vinto lo abbia anche dimostrato. Postazione 6. The Eightful Eight. Sì, l'ho messo al sesto posto, anche se qui Tarantino dà il meglio di sé, un Jackson memorabile nella sua interpretazione di Warren, Kurt Russell, che interpreta il Boya, quindi un cast stellare, Jennifer Jason Leigh, che interpreta Daisy, Tim Roth, che interpreta Ozzy, Dorn, nel ruolo di Smithers. Un casto è veramente eccezionale, ed una storia altrettanto movimentata, e che veramente non ti annoia mai. Linea, anche qui, la maturità raggiunta col tempo negli anni da Tarantino. E basta, tanto poi tutto il resto è spoiler. Postazione 5. Le Iene. Per il piano sequenza rimasto nella storia, per il finale aperto e il trunk shoot, ovvero la ripresa dell'attore dal bagagliaio di una macchina inventata da Tarantino, questo film è veramente qualcosa di micidiale, una bomba atomica con un cast stellare. Keitel, un grandissimo attore che ha lavorato con Scorsese, con Lena Wertmuller, con Ridley Scott, Argento, Romero, De Palma, Scola, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, meritava forse di più questo film, anche per il cast, che è un cast anche abbastanza corale, tutti hanno un po' il loro spazio all'interno del film, e basta, andiamo avanti. Postazione 4. Jackie Brown. Jackie Brown, Pam Greer, Robert Forster, Samuel L. Jackson, De Niro, Michael Keaton, è tratto da un romanzo di Leonard, Punch al Room, e è la dimostrazione, dopo Le Iene e Pulp Fiction, che Tarantino può creare un film con un finale chiuso, perché, lo ricordiamo, Le Iene è un finale apertissimo, Pulp Fiction è un film circolare, quindi, e la storia, invece, è un po' complicata. Praticamente c'è questo order, che è il capo di un'associazione di contrabbando. Un suo scagnozzo viene catturato, con l'aiuto di un garante lo libera, però per paura che Spifferi tutto, della sua associazione alla polizia, viene ucciso. Però ormai il danno è fatto, e quindi anche Pam viene, scusate, Jackie Brown viene raggiunta, viene messa in carcere, liberata da Ordel, ma Ordel vorrebbe farla fuori, come ha fatto col suo precedente scagnozzo. In cambio della libertà, Jackie si allego alla polizia, però racconta anche tutto ad Ordel, e nel mezzo poi ci entrerà questa valigetta da 500 mila dollari, che interessa un po' a tutti. Andiamo avanti. Postazione indefinita. Un piccolo imprevisto. Questa è a qualcosa di più facile, Questa è una del matrimonio, questa è la qu formula. postazione 3 al terzo posto quindi medaglia di bronzo questo grande film 1941 i nazisti guidati da Hans Landa uccidono la famiglia di Shoshanna nel 44 ci sarà questa grande vendetta ed anche giusta vendetta e definitiva vendetta grazie ai bastardi senza gloria postazione 2 Kill Bill volume 1 Uma Thurman si vendica di Oren Ishii e di Bernita Green le prime due killer che vediamo all'inizio e alla fine di questa prima parte anche se in realtà è un film unico c'è tanto combattimento come la scena degli 88 killer tanti riferimenti al cinema di Bruce Lee e soprattutto questa storia è nata da da un'idea avuta sul set di Pulp Fiction proprio perché il personaggio di Uma Thurman mia stava raccontando una storia simile a Vincent e quindi da qui è nata questa idea che poi negli anni ha preso vita ed ha generato questo bellissimo film e quello che volevo dire prima la particolarità di questo film visto che è stato diviso in due parti è che non puoi smettere di vederlo ci sono altri film come Ritorno al Futuro ad esempio che dici oggi mi guardo il primo e domani mi guardo il secondo poi il terzo invece qui non ce la fai devi sapere come va a finire anche perché sono collegatissimi sono stati girati back to back voglio dire dall'infinito questo è un film unico però ora basta andiamo avanti postazione 1 Pulp Fiction John Travolta Samuel L. Jackson Bruce Willis Uma Thurman Tim Roth e chi più ne ha più ne metta anche qui un trunk shoot veramente molto particolare così come tutto il film il film è circolare racconta queste tre storie che poi in realtà sembrano divise ma sono collegatissime con un finale che arriva praticamente a metà film e che dire di Pulp Fiction ha cambiato la storia del cinema e penso che siamo un po' tutti d'accordo su questo primo posto forse comunque questa era la mia classifica spero che vi sia piaciuta mi raccomando lasciate nei commenti la vostra la mia vi ricordo non è quella definitiva è una delle tante però penso che all'incirca siamo un po' tutti d'accordo forse qualcosa può essere cambiato non so ditemelo voi nei commenti scrivete la vostra prendete questa classifica con le pinze perché come ho detto è la mia non è quella definitiva mi raccomando lasciate like un commento con la vostra classifica personale iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video io vi saluto e vi auguro buon anno che sia un anno migliore di questo anche perché di peggio non si può fare e ciao ci vediamo al prossimo anno Django 7 ma come si fa? questo facciamo cinema proprio non ha un minimo di gusto non ha un minimo non ha un minimo non ha un minimo non ha un minimo di gusto Grazie a tutti.